un saluto da gerardo paterno e ben trovato a questo nuovo appuntamento con lo sgabello il format dedicato all'immobiliare dei servizi oggi ti porto nel mondo della locazione e delle startup innovative e lo faccio insieme a luigi visconti founder di freedom ciao luigi e grazie per essere con noi oggi buongiorno a te gerardo e grazie mille per l'invito bene allora parliamo un po di freedom cos'è e come pensa di innovare il settore delle locazioni questa piattaforma certo allora freedom si propone come la prima piattaforma online per l'incontro tra chi vuole affittare il proprio immobile e property manager ovvero degli operatori esperti a gestire a 360 gradi la locazione eliminando il proprietario quelle che sono le preoccupazioni e il rischio di insolvenza legati all'affitto quindi grazie all'intelligenza artificiale che la piattaforma ha sviluppato il proprietario può comparare gratis e in pochi click le migliori offerte di locazione per il proprio immobile e selezionare quelli che sono i property manager più adatti alle proprie esigenze ti permetteranno fondamentalmente di incassare la rendita di affitto senza pensieri per il property manager o agente immobiliare che offre tale servizio freedom è un meccanismo efficiente ed innovativo per acquisire nuovi lead qualificati e auto profilati dallo stesso potenziale cliente quindi l'agente in sostanza riceverà in tempo reale le richieste in linea con le proprie preferenze gratis e senza impegno non sono previsti dei costi fissi o di abbonamento ma sarà l'agente stesso a scegliere se interessato alla richiesta che visualizzerà sul proprio profilo a entrare in contatto con il proprietario utilizzando i crediti che sono la moneta virtuale della piattaforma in sostanza per l'agente immobiliare freedom può essere considerato come un servizio di marketing innovativo ed efficiente a consumo quindi non richiede per l'agente immobiliare il sostenimento di investimenti di marketing dal ritorno incerto la setup di uno staff di marketing preposto oppure l'incarico verso agenzie di marketing o comunicazione ok chiarissimo questo aspetto abbandoniamo un secondo diciamo il property manager e l'agente immobiliare torniamo un attimo sul proprietario perché il proprietario di casa dovrebbe utilizzare il servizio proposto da freedom certo allora noi abbiamo abbiamo ovviamente fatto fatto i nostri studi e per i proprietari la gestione completa della locazione di un immobile si calcola assorba in realtà una media tra i 3 e 10 giorni lavorativi al mese che corrisponde a un mese da un mese a quattro mesi all'anno questo ovviamente a seconda della tipologia di affitto il lungo termine residenziale richiede un impegno minore la gestione di un affitto turistico era una gestione di sostanzialmente una mini albergo una pensione per scontare tutto quello che ovviamente è lo stress le seccature imprevisti che possono derivare quindi noi diciamo sempre se sei un proprietario che dà valore al proprio tempo affidarsi a un property manager per la gestione della della locazione la gestione delegata della locazione è una scelta che è scontata fondamentalmente i property manager a loro volta non sono tutti uguali differiscono per le aree servite l'importo alla struttura delle commissioni la tipologia degli immobili trattati abbiamo degli specialisti in alcuni tagli dell'immobile oppure immobili che per esempio hanno bisogno di un restyling o di una ristrutturazione e infine abbiamo ovviamente property manager specializzati su tipologie di locazioni come appunto il breve termine mentre altri offrono una soluzione più legata all'affitto tradizionale 4 più 4 quindi confrontare e scegliere il proprio t manager più adatto alle proprie esigenze alle caratteristiche dell'immobile è un'attività che richiede tempo ed esperienza ed è una scelta importante perché attiene al proprio patrimonio immobilare sia questo appunto una seconda casa oppure rappresentato da diversi immobili credo mentre in aiuto perché in maniera totalmente digitale e efficiente aiuta i proprietari nella scelta del property manager più adatto alle specifiche esigenze le caratteristiche del proprio immobile e confronta per loro le migliori offerti ok ricordiamo peraltro che freedom trova quindi applicazione sia diciamo sulla sugli affitti residenziali che su quelli commerciali quindi a breve medio lungo termine e soprattutto per quanto riguarda il lungo termine vorrei farti una domanda un po un po spinosa cioè secondo te come come si elimina o si può prevenire il rischio di insolvenza ti ringrazio per la domanda perché effettivamente molto molto ricorrente per quanto riguarda l'affitto lungo termine dove effettivamente abbiamo un conduttore che rimane appunto trattiene un rapporto di lunga durata abbiamo diciamo partnership con una assicurazione una società di assicurazione che offre una polizza a mitigazione del rischio di insolvenza questo vuol dire che nel momento in cui il conduttore non dovesse pagare o comunque dovesse ritardare i pagamenti entra in gioco la polizza che rimborsa fino a 12 mesi di mensilità non corrisposte offre un rimborso delle spese delle spese legali in caso di sinistro e una gestione completa anche dell'eventuale sinistro ovviamente questo ha un valore diciamo oltre che come dire di gestione appunto del sinistro ha un valore fortemente deterrente nel senso che nel momento in cui c'è un operatore un intermediario finanziario che accompagna nella selezione del conduttore ed è interessato ovviamente incentivato a che il sinistro non si verifichi anche la qualità la selezione la qualità dei conduttori inseriti poi nel rapporto di locazione migliora notevolmente quindi la verifica del sinistro in sé per sé è molto molto più remota quindi in questo senso noi andiamo a offrire un affitto tramite ovviamente i nostri property manager affiliati totalmente gestito e a riparo dal rischio di insolvenza comunque con un rischio di insolvenza molto molto mitigato limitato certo certo prima tu hai fatto un un accenno abbastanza profondo anche sui vantaggi per l'agente immobiliare questa platea tu sai che insomma noi stiamo parlando agli agenti immobiliari vorrei che tornassi un attimo su questa categoria di persone per raccontare loro meglio ancora come possono ottenere un vantaggio dall'utilizzo per l'appunto di freedom assolutamente ovviamente mettendosi nei panni dell'agente immobiliare trovare autonomamente nuovi potenziali clienti sul mercato quindi i lead è ovviamente un'attività possibile ma richiede tempo sforzi e spese di marketing a volte ingenti se andiamo se tralasciamo diciamo quelle che sono le tecniche di contatto a freddo oramai obsolete in un mondo dove diciamo siamo tempestati da messaggi promozionali i canali tradizionali di promozione quelli che oramai sono tradizionali quindi campagne adwords piuttosto che mailing list social media ma anche tecniche più ritrovo se vogliamo come il volantinaggio hanno la caratteristica che la gente investe in in anticipo appunto nei potenziali lead e non ha la possibilità prima di vedere se questi lead sono di proprio interesse inoltre il tasso di conversione risulta medio molto basso perché risulta basso perché questi lead sono spesso non profilati ovvero non contengono i dettagli sulla specifica esigenza del del cliente non risultano per così dire interessati perché molto spesso sono utenti che hanno digitato parole chiave come per esempio nelle campagne adwords oppure visitato portali di categoria ma non hanno espresso un particolare interesse una specifica esigenza per la locazione del proprio immobile e a volte sono fuori target perché i canali esistenti non permettono alla gente immobiliare almeno con una sufficiente granularità di filtrare solo le richieste che sono coincidenti con le proprie preferenze ecco freedom va a risolvere insieme tutti questi tutti questi problemi perché dà la possibilità alla gente di ottenere lead compilati direttamente dal proprietario che generalmente appartiene a una categoria alto spendente che richiede un servizio a valore aggiunto questi lead sono completi con le specifiche esigenze del proprietario e le caratteristiche dell'immobile e queste risultano già in linea con le preferenze che la gente immobiliare ha espresso in sede di iscrizione e infine la gente paga questi lead solo dopo aver visionato l'opportunità e se è interessato all'opportunità quindi in questo senso noi ci proponiamo come il metodo di acquisizione più efficiente innovativo per chi si rivolge al mercato degli affitti perfetto mi sembra insomma tutto tutto chiaro ed è soltanto da provare di fatto allora luigi qual è il modo più semplice quindi per entrare in contatto con freedom assolutamente basta andare sul sito che poi vedremo in sovraimpressione è www.freedom.co e in meno di un minuto si può appunto compilare il form di iscrizione come agente immobiliare e iniziare a ricevere le offerte le richieste di affitto dei proprietari perfetto luigi ti ti ringraziamo insomma per questa tua disponibilità ci ha raccontato una bella storia freedom può essere davvero la soluzione diciamo a tutte quelle criticità legate alla locazione sia residenziale che commerciale e insomma e lasceremo insomma al mercato il giudizio su quello che poi insomma andrete andrete fare però intanto in bocca al lupo perché comunque c'è bisogno sempre di tanta innovazione tecnologia anche nel mondo delle locazioni grazie mille grazie per l'invito per il tempo è sempre un piacere rincontrarsi grazie prima di chiudere ti ricordo che se hai un servizio un prodotto dedicato all'immobiliare e vuoi presentarlo attraverso questo format puoi farlo scrivendo allo sgabello chiocciola gerardopaterna.com alla prossima grazie a tutti grazie a tutti